L'Oreso Rodelli, una domenica sfortunata, 2-0 già a fine del primo tempo, non siete riusciti poi a rimontare, cosa non è andato? Tutto, bisognerebbe capire cosa è andato forse. È vero che la stagione è lunga, però domenica da dimenticare. Dobbiamo farci un bel esame di coscienza in settimana perché abbiamo fatto una prestazione irriconoscibile per quella che è la squadra che conosco io. Molli, non siamo mai riusciti a accorciare, veramente una domenica da dimenticare. Spero che possa essere l'inizio della nostra stagione perché fino ad ora non siamo mai riusciti a trovare ancora la squadra che c'è stata l'anno scorso. Da mercoledì bisogna iniziare a lavorare veramente per ritrovarci il prima possibile. L'impressione è proprio anche il reparto offensivo. Ovviamente subire due gol è una nota importante, però anche creare dal centrocampo in su. Sì, chiaro, ma il problema non è l'attacco o la difesa. Siamo una squadra e per il modo che abbiamo di giocare noi, per come interpretiamo nelle partite, o siamo tutti al cento per cento o facciamo tutti delle grandi figure. Quindi, come ho detto, bisogna svegliarsi e tornare a lavorare il più forte possibile da mercoledì. L'opportunità è già villongo, in trasferta, un campo non facile, lo facciamo già l'anno scorso. Cosa ci vuole? Ci vuole la grinta che abbiamo messo in campo la scorsa stagione. Noi non possiamo prescindere dal andare a cento all'ora, dal metterci la grinta e non possiamo fare una partita in cui sbagliamo cento passaggi. Quindi dobbiamo lavorare, lavorare e continuare a lavorare. Buongiorno, grazie. A te.